Subito in attacco il Palermo, adesso lo fa con Migliaccio, il tiro da lontano di Nocerino e la palla schiaffeggiata in angolo da Lupatelli. Errore però da parte di Agostini e subito Budan che se ne va, c'è Cavani al centro, insiste Budan, Budan, Lupatelli per il secondo intervento provvidenziale. Cossu, ancora Cossu che ha evitato Blasi, Cossu dentro per Matri, 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 Cagnari in vantaggio. Che inserimento, è qui la difesa, Cassani invece di seguire, Matri l'ha lasciato andare da solo, basta salire, palla, qui fa la scoperta, non puoi non seguire l'avversario. Il pallone è scaraventato fuori dall'area di rigore nella zona di Matri, che va ad attaccare Bovo, ancora Matri, Matri da solo, ha soffiato il pallone a Bovo, adesso punta Chiaer, ancora Matri, prova a liberare Cossu, Cossu sull'esterno della rete. Balzaretti, ancora Balzaretti, Budan, prova a liberarsi, Budan, lontino gol di Budan, pareggio Palermo, che bellezza. Non è tanto il tiro, ma come è venuto fuori, perché è venuto fuori dal dribbling, uno, due, e poi ha tirato questo grande tiro. Movimento sul primo pallo di Migliaccio, Chiaer, gol di Chiaer, Palermo in vantaggio, due a uno. E qui è bravissimo ad anticipare, sono in tre praticamente, Geda, Lazzari e un altro che si fanno anticipare da Elker. Un momento di grande difficoltà, il Cagliari ha esaurito i suoi cambi. Dunque Canini va in porta con i guanti e la maglia di Lupatelli. Bertolo, Pastore, è finita qui e il Palermo torna a vincere dopo quasi due mesi.